ciao ragazzi, questa è la mia voce, questa è la mia voce, già so che direte che fa schifo, quindi lasciamo stare i dettagli, la mia voce è così, naturale, non la mia voce ma dettagli, quindi già sono morta, 300 iscritti di tutti quelli cince, vi saluto, vi do un bacio veramente, perché c'è 300 iscritti, raga, io mi vado a suicidare perché dopo questa non posso, non so che dire, c'è, so che direte, tipo, oh è bello, è carino, questo cacchio, sto cacchio veramente, perché non lo è, quindi dettagli vicini, grazie di tutto, grazie, grazie, soltanto grazie, solo grazie a voi, o 300 iscritti, grazie, solo a voi, vi saluto e un bacio, iscrivetevi, allora, mettete tanti like, iscrivetevi, commentate e ci vediamo domani con un nuovo video, perché non posso stare qui a parlare tutto, tutto il giorno, perché mai sera, volevo farlo ora, visto che è tanto, spero che vi è piaciuto il video, mettete un like, so che metterete tanti slicker perché faccio schifo dettagli, ci vediamo domani con un prossimo video, ciao, ciao, ciao